Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia, nell'isola di Java, in uno dei posti più caratteristici. Sto mangiando un delizioso pranzetto e devo dire che ho trovato questo posto esattamente dietro il tempio di Prambanan, un tempio hindù famosissimo, meta di tanti turisti indonesiani, pochi occidentali, devo dire che ne ho visti veramente pochi, il tempio esattamente dietro questa finestra qua, dietro questa finestra abbiamo il tempio e mi sto cimentando in un pranzetto caratteristico con la classica Coca Cola e l'incredibile costa meno di un euro, cioè meno compresa la Coca Cola, la Coca Cola poi in una bottiglietta in stile vetro, anni 70, mai visto una bottiglietta così perché 295 milliletri, più grande del normale, e questo è il di vetro, poi questo è il pranzetto, c'è una coscia di pollo fritto, un po' di salsina e il riso, il risottino, eccoci qua, vi faccio vedere un po' il tempio qui a ritratto in foto, questo tempio rimane esattamente fuori qui davanti, qui c'è il parco del tempio e se mi abbasso qualche cosa si riesce a entrare a vedere, adesso ve lo faccio vedere, vedete il tempio. Eccoci qua, cari ragazzi, venite anche voi in Indonesia, venite a trovare questo posto, anche questo posto casereccio dove si mangia veramente, dove si mangia spendendo pochissimo, ecco qua vediamo, vi faccio un po' vedere com'è all'interno, posto molto semplice, molto alla buona, molto di stile anche, qui è veramente un posto autentico, rimane sul retro per quello che qui i turisti non ne arrivano, vanno tutti dalla parte dell'ingresso, qui non ci arriva nessuno, è un posto molto bello, guardate le sede come è il quadro, come ha vedato anche questo particolare, c'è un po' quel che è particolare, ecco, proprio un posto caratteristico, ecco, mi do il buon appetito da solo, intanto che guardo fuori da questa bellissima finestra e ci sentiamo alla prossima.